Una serata speciale, quella di sabato sera vissuta interamente on the road a Marina di Ginosa grazie alla nuova esplosiva, travolgente atmosfera ricreata dal Road Café cocktaileria, caffetteria nata da un progetto targato Made in Ginosa Marina by Ivan Cirielli e Rocco Mastronardo, imprenditori con le idee chiare loro, bartender di professione che non conoscono vie di mezzo ma solo il meglio, quello che offrono ai propri clienti Barca Marina di Ginosa e il Road Café, cos'è questa nuova tua creazione? Certo, questa è una nuova creazione per quanto riguarda il punto di vista artistico dei locali della notte noi comunque lavoriamo anche con la cocktaileria, caffetteria inseriremo di nuovo una nuova cornetteria a partire da un cornetto vergano, vegetale cornetto per ciliaci e anche un buon caffè il verniano che ci ha sponsorizzato buona parte del nostro lavoro per quanto riguarda vorrei ringraziare soprattutto l'artista di questo che ci è stato creato che è Gianfranco Prillo Il Road Café è praticamente il bar da strada, è stato un arredamento un po' cottino stile un po' americano, un po' da strada abbiamo toccato anche un pochettino un designer elegante per mantenere tutta la situazione del paese, mantenere bello elegante e tranquillo Road Café dove gli shaker ti volano sopra la testa alla velocità della luce dove trovi il meglio dell'esperienza nell'American Bar con Michele Ditinco e Rocco Mastronardi entrambi istruttori professionisti di Bartender Abbiamo apprezzato la tua esibizione prima, questo è il tuo stile Sì, è il mio stile, faccio questo da una vita, adesso lo metto in pratica nel mio locale finalmente siamo riusciti a creare qualcosa per i giovani e speriamo di andare avanti l'abbiamo fatto per loro, non per noi Beh, prepariamo di tutto, Mojito, Capiroska, Long Island, Japan Long Island, Martini dal più classico al più pubblicato ne facciamo di tutti i colori quello che volete vi facciamo Stravagante, grazie alla creatività di Gianfranco Aprillo che ne ha curato stile e design insieme ad un team che propone solo il meglio della propria esperienza maturata dietro al banco Cosa ti sei ispirato? Ecco, io più che altro di solito quando lavoro cerco di ispirarmi e di lasciarmi ispirare dal posto dove mi trovo cercando di rispettare il più possibile quella che è la paesaggistica e portando comunque sempre un po' di innovazione, un po' di contemporaneità Parlando di Ginosa Marina, cosa ti è venuto in mente? Qui eravamo su una strada, quindi ho cercato di dare come tema principale del locale appunto questa stazione di servizio, dare quasi un'idea di una stazione di servizio però una stazione di servizio virtuale che porta un po' come al confine tra la realtà e il sogno tra questo pianeta e i mondi sconosciuti da esplorare quindi ecco, una sosta in un posto nuovo sicuramente che porterà verso i nuovi orizzonti Diamo un voto a questi cocktail da 1 a 10 come sono? I cocktail sono favolosi, guarda, ho appena bevuto un mojito che è la fine del mondo Road Café e anche cornetteria, frutteria artistica, stuzzicheria punto di riferimento della Movida dove il tempo non ha misura perché H24 grazie anche alla collaborazione di EG, ovvero Eventuali Group con la bellissima Claudia De Novi il loro messiere è organizzare eventi e direzioni artistiche Claudia De Novi di Eventi Group in collaborazione con il Road Café intanto cosa ne pensi di questo nuovo stile American Bar qui a Marina di Ginosa? Buonasera a tutti gli amici di Nettuno Sono tutti qui Beh, oggi c'è questa bellissima inaugurazione del Road Café siamo tutti qui in Ginosa Marina animata anche d'inverno, oltre all'estate insomma, una bellissima cosa è in collaborazione con Eventuali Group un gruppo di ragazzi che organizza eventi tanti eventi in programma nel periodo natalizio ma sicuramente anche dopo il più grande evento in programma sarà quello di Capodanno il grand opening alla tenuta dell'Aquila, la terza cenone più discoteca dopo la mezzanotte siete tutti invitati, veniteci a trovare e venite anche qui al Road Café questa sera c'è davvero tantissima bella gente Road Café per la colazione, per un aperisfizio o per assaporare i cocktail della casa Road Café è il posto esclusivo dedicato alle persone giuste con la testa sempre sulle spalle Road Café è solo a Marina di Ginosa in Viale Ionio 54